FEDOR DOSTOJESKI I DEMONI Se Dio c'è, tutta la volontà è in Lui, e dalla Sua volontà io non posso liberarmi. Se non c'è, tutta la volontà è mia, e ho l'obbligo di affermare l'arbitrio. L'arbitrio? E perché ne avete l'obbligo? Perché tutta la volontà è diventata mia. Possibile che nessuno, su tutto il pianeta, avendo posto fine a Dio, è messo sia a credere nell'arbitrio, o sia a affermare l'arbitrio in tutta la sua pienezza? È come se un povero avesse ricevuto un'eredità e ne fosse spaventato, e non osasse avvicinarsi al sacco, stimandosi troppo debole per possederlo. Io voglio affermare l'arbitrio. Sarò il solo, ma lo farò. E fatelo! Ho l'obbligo di spararmi, perché la suprema pienezza del mio arbitrio è uccidere me stesso. Ma non siete mica il solo a uccidervi. Di suicidi ce ne sono molti. Per un motivo. Ma senza nessun motivo, e unicamente per arbitrio, ci sono solo io. Non si sparerà, balenò di nuovo in mente a Petra Stefanovic. Sapete, egli osservò con irritazione, io al vostro posto, come dimostrazione di arbitrio, ammazzerei qualcun altro, e non me stesso. Potreste rendervi utile. Vi indicherò io chi. Se non avete paura, in tal caso potete anche non spararvi oggi. Ci si può mettere d'accordo. Uccidere un altro sarebbe il punto più basso del mio arbitrio. E in questo ci sei tutto tu. Io non sono te. Io voglio il punto più alto, e ucciderò me stesso. Ci è arrivato da sé, borbotto malignamente Petra Stefanovic. Io ho l'obbligo di affermare l'incredutilità, disse Kirill, camminando per la stanza. Per me nulla è più alto dell'idea che non c'è Dio. Tutta la storia umana è in mio favore. L'uomo non ha fatto altro che inventar Dio per vivere senza uccidersi. E in questo sta tutta la storia universale fino ai nostri giorni. Io solo, per la prima volta nella storia universale, non ho voluto inventar Dio. Si sappia, una volta per sempre. Non si sparerà, pensò Petra Stefanovic inquieto. Chi ha da saperlo? Fece, aizzandolo. Qui ci siamo io e voi, forse Liputin? Tutti avranno da saperlo, tutti lo sapranno. Non c'è mistero che non si sveli, l'ha detto lui. E con entusiasmo febbrile indicò l'immagine del Salvatore, davanti alla quale ardeva la lampada. Petra Stefanovic si irritò definitivamente. Sicché credete ancora sempre in lui e avete accesso alla lampada? E forse, per ogni eventualità? Quello restò silenzioso. Sapete, secondo me, voi credete magari ancora più di un prete. In chi? In lui? Ascolta, fece Kirillov, e si fermò guardando davanti a sé con uno sguardo immobile ed esaltato. Ascolta la grande idea. Ci fu sulla terra un giorno che nel mezzo della terra stavano tre croci. Uno dei crocifissi credeva al punto che disse a un tratto, Oggi sarai con me in paradiso. Finì il giorno, tutte e due morirono, si incamminarono e non trovarono né paradiso né resurrezione. Non si avverò quanto era stato detto. Ascolta, quell'uomo era il più sublime di tutta la terra. Formava ciò per cui essa deve vivere. Tutto il pianeta, con tutto ciò che c'è sopra, senza quell'uomo, non è che follia. Non ci fu né prima, né dopo, nessuno che lo uguagliasse, né mai ci sarà. Che è perfino un miracolo. In questo appunto sta il miracolo, che non ci fu e non ci sarà mai chi lo uguaglia. Ma se è così, se le leggi della natura non hanno risparmiato neppur quello, se non hanno risparmiato nemmeno il proprio miracolo, ma hanno obbligato anche lui a vivere in mezzo alla menzogna e a morire per la menzogna, significa che tutto il pianeta non è che menzogna, e poggia sulla menzogna e su una stupida beffa. Significa che le stesse leggi del pianeta sono una menzogna e un vaudeville del diavolo. Perché vivere? Allora, rispondi, se sei un uomo. Qui la questione prende un'altra piega. Mi pare che qui abbiate confuso due cause diverse, e questa è una cosa molto malfida. Ma permettete, beh, e se voi siete Dio? Se la menzogna è finita e voi avete capito che tutta la menzogna veniva dal fatto che c'era il vecchio Dio? «Finalmente hai capito!» esclamò Kirillov con entusiasmo. «Sicché si può capire, si ha capito perfino uno come te. Ora capisci che la salvezza per tutti sta nel dimostrare a tutti questo pensiero. Chi lo dimostrerà? Io». Non capisco come finora l'ateo abbia potuto sapere che non c'è Dio e non uccidersi immediatamente. Aver coscienza che non c'è Dio e nello stesso tempo non aver coscienza di essere diventato tu stesso Dio è un'assurdità. In caso contrario ti uccidi di sicuro. Se ne hai coscienza, sei re, e non ti uccidi più, ma vivi nella maggior gloria. Ma uno, quello che è il primo, deve uccidersi di sicuro. In caso contrario chi mai comincerebbe e darebbe la prova? Sarò io di sicuro che mi ucciderò. Per cominciare è dar la prova. Io non sono Dio altro che per forza, e sono infelice, perché sono obbligato ad affermare l'arbitrio. Tutti sono infelici perché tutti temono di affermare l'arbitrio. L'uomo finora è stato così infelice e povero perché temeva di affermare il punto essenziale dell'arbitrio e si valeva dell'arbitrio di straforo come uno scolaretto. Io sono tremendamente infelice perché ho una paura tremenda, la paura e la maledizione dell'uomo. Ma io affermerò l'arbitrio, io ho l'obbligo di credere che non credo, comincerò e finirò e dischiuderò la porta e salverò gli altri. Soltanto questo salverà tutti gli uomini e fin dalla successiva generazione li trasformerà fisicamente, perché nel suo presente aspetto fisico, per quanto ci abbia pensato, l'uomo non può in nessuna maniera senza fare il vecchio Dio. Per tre anni ho cercato l'attributo della mia divinità e l'ho trovato. L'attributo della mia divinità è l'arbitrio e tutto ciò con cui, sul punto essenziale, posso mostrare la mia ribellione e la mia nuova spaventosa libertà, perché essa fa molto spavento. Io mi uccido per mostrare la mia ribellione e la mia nuova spaventosa libertà.